Noi donne siamo più avvantaggiate rispetto agli uomini per quanto riguarda la bellezza e il sentirsi giovani. Ci basta un rossetto giusto, o un vestito, o un accessorio, oppure la piega dal parrucchiere che già ci sentiamo più belle e più giovani. E con lo yoga facciale il tuo viso risplenderà ancora di più.